Il momento non è dei più facili, ma proprio per questo i tifosi di Granata si stringono ancora di più intorno alla squadra. Due nuovi club hanno visto la luce nella serata di ieri a testimonianza che affetto e passione non sono subordinati alle vittorie o alle sconfitte. A Sianio, a costa di Mercato Sanseverino, alla presenza della Di Granata Milan e dell'Oslo Napoli, sono stati inaugurati due nuovi club, altri due vanposti della passione per la maglia della Serenitana nella parte nord della provincia di Salerno. Tanto entusiasmo e tanta partecipazione hanno caratterizzato la serata. Siano Granata 84-088 del Presidente Enzo Leo ed Amici Granata presieduto da Carmine Ingenito, sono una dimostrazione che la passione per la Serenitana crea legami, aggregazione, momenti di sana condivisione. Sono tanti i club sorti negli ultimi due anni e questo è un elemento su cui la società del Presidente Iervolino deve riflettere perché i tifosi sono la vera forza della Serenitana e la loro vicinanza e il loro calore sono fonti di energia preziosa per società e squadra a cui non si può rinunciare. Carmine Ingenito, il Presidente di Amici Granata qui a Costa di Mercato San Severino, una piccola comunità granata che si rinnova e che ospita anche l'amministratore delegato della Salernitana. Tanto entusiasmo nonostante purtroppo i risultati negativi. Noi stasera inauguriamo una nuova sede per la frazione Costa, una frazione che io l'ho definita dal cuore Granata. Noi avevamo un altro club, adesso ci siamo rinnovati per tramandare ancora la passione per la Salernitana. Purtroppo anche se i risultati sono negativi, noi ci crediamo, ci crediamo fortemente in questa salvezza perché, come abbiamo detto pure in altre riunioni, mantenere la categoria in serie A è un patrimonio per Salerno e per l'intera provincia. Crediamo a tanti giovani, tanti bambini quanto è facile o difficile tramandare questa fede Granata ai più piccini. No, è stato facile perché c'è stato un entusiasmo giorno dopo il giorno, ci ha trascinato fino a questa sera che sarà l'apertura della sede. I giovani contiamo 80 iscritti, la maggior parte sono tutti giovani di questa frazione e ne andiamo fieri di fare Salernitana. C'è anche Maurizio Milan qui, che cosa chiedete alla società, alla proprietà, al mercato di gennaio si avvicina, la situazione non è rosa anche per la questione dell'indice di liquidità. Sì, stasera gli rinnoviamo l'invito, dobbiamo mantenere la serea, è fondamentale, e gli rinnoviamo l'invito a fare una campagna acquisti di rafforzamento massiccia. Anche se, come hai detto tu, l'indice di liquidità non è quello che l'ha detto anche il Presidente Iervolini, bisogna prima vendere e poi acquistare. Speriamo gli atti di rinnovo e veramente col cuore di rimanere in serea.